Europa sotto casa, la regione scende in piazza. Il villaggio del lavoro itinerante si apre alla città di Chieti, a giovani disoccupati e lavoratori che vogliono stabilire un contatto con le aziende del territorio. In villa comunale oggi la seconda giornata della manifestazione dedicata al lavoro, in particolare al nuovo e ambizioso programma di occupabilità, GOL, acronimo di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Piano di politiche attive per il lavoro previsto dalla legge di bilancio 2021 e poi confermato anche dal PNRR che vede la regione al centro di un programma di inserimento e formazione lavorativa dei disoccupati e di chi ancora sta seguendo un percorso di studi. Cosa fai? Psicologia magistrale sociale del lavoro. Cosa pensi di questa iniziativa? Un'iniziativa importante per i ragazzi, soprattutto delle superiori che cercano di muoversi nel campo del lavoro adesso. Di cosa ti sei interessato in questo villaggio? Beh, insomma, parlare con le aziende è sempre interessante, offrono una buona occasione per capire un po' il nostro futuro lavorativo, per cercare di darci un'idea, di capire un po' meglio il nostro domani, insomma. Che sono andati gli incontri di questa mattina? Nei fatti, sì? Allora, in realtà ho partecipato più agli stand, quindi mi sono fatta spiegare un po' l'iniziativa, ma in realtà ero più interessata per il pomeriggio. Hai già le idee chiare? Sì, però dipende sempre da come andranno le cose. Mi piacerebbe lavorare nelle risorse umane, infatti sto facendo l'ultimo anno di università, però insomma dipende tutto da come si mettono le cose, vediamo. Il programma della mattinata ha previsto una fase di orientamento rivolta ai giovani studenti da parte degli ITS regionali, poi un breve convegno sul programma Goal e il ruolo dei centri per l'impiego, con gli interventi dell'assessore regionale Pietro Quaresimale, il capo divertimento lavoro Renata Durante, il dirigente dei centri per l'impiego Romina Ciaffi, il rappresentante di Union Camere Giuseppe Di Donato, il segretario regionale della CISL Lucio Petrongolo, per Confindustria Abruzzo Gianmaria De Paolis e il commissario straordinario Ampla Raffaele Tangorra.